I militari della stazione Carabinieri Forestale di Buccino hanno sequestrato un'area nella zona PIP del comune di San Gregorio Magno perché adibita a discarica abusiva. A seguito della verifica presso un opificio di lavorazione marmi, i militari hanno riscontrato la presenza di un'area adibita a discarica di rifiuti pericolosi e non composti da residui della lavorazione del marmo, materiale sabbioso e alluminoso, contenitori, colmi di sostanze pericolose e big bags lacerate e non più utilizzabili. Dagli ulteriori approfondimenti condotti è emerso inoltre che la ditta aveva occupato un'area di proprietà comunale per un'estensione di circa 1000 metri quadri dove aveva depositato monoliti di grandi dimensioni utilizzati per la lavorazione del marmo. Alla luce di quanto accertato, i militari hanno provveduto a deferire all'autorità giudiziaria i responsabili della realizzazione di discarica abusiva e di occupazione di area demaniale. Contestualmente hanno posto sotto sequestro l'area di discarica e quella occupata abusivamente.